Ehi Barbie, posso venire da te stasera? Certo, non ho grandi programmi, sono un gigantesco mega party con tutte le Barbie, con coreografia preparata e una canzone scritta apposta. Che cool! Hai il giorno più bello di tutti. Lo è davvero come lo era ieri, lo sarà domani e ogni giorno da oggi e per sempre! Avete mai pensato di morire? Sono successe cose che forse sono correlate. La doccia fredda, sono caduta dal tetto e ho i talloni piatti a terra. Piedi, piatti! Che cosa devo fare? Devi andare nel mondo reale. Puoi tornare alla tua vita normale o puoi conoscere la verità sull'universo. La scelta sta a te. La prima, i tacchi alti. Devi volerla conoscere. Ok? E riprova. Vengo con te. Ok. Wow, è il mondo reale! Che cosa succede? Perché quegli uomini mi guardano? Sì, stanno fissando anche me. Barbie nel mondo reale è impossibile. Se si viene a sapere, accadranno cose assurde nel nostro mondo. Sarebbe catastrofico! Non tocciamo con le Barbie da quando avevamo cinque anni. Nessuno abbia pace finché quella bambola non torna nella scatola. Gli umani prima o poi se ne vanno. Prendetela Barbie! Le idee restano per sempre. No, non le lascio fare solo un appendicectomia. Ma sono un uomo. Ma non un dottore. Posso sentire un dottore? Io sono un dottore. Mi serve una penna a scatto? No. E una cosa affilata? No. Eccolo lì, dottore. Chiamate la sicurezza. La coscienza di un uomo è il suo bene più prezioso. Hai un appuntamento alle nove? Perché se falliamo noi, è il mondo che fallisce. Farete un corso di recupero che sarà tenuto dal migliore di tutti voi. Sorridi, Filippo. Con il loro matrimonio avrò la promozione. Farei tante domande da fatti. Se lo lascio da solo qualche minuto, cosa vuoi che succede? Io sono Valentina. Io, Filippo. Penso che mi sono innamorato di te. Torna te subito a casa. Torna a casa. L'amore è da sentirsi liberi, di fare le cose. Liberi! Ma liberi di fare chi? L'unico modo sarebbe scendere sulla terra e parlare di persone. Non lo fare, non lo fare, non lo fare. Ma ci conosciamo noi. Devo far sì che trovi Valentina con un altro. Maestro, io uno lo conosco. Sei tu. Ci sono io. Chi è che decide qual è una cattiva coscienza e quale no? Io lo vedo nel consenso! Per sempre. Pienso Alguien mi può dire para que serve la literatura? Para nada. Para ti ne vas a dormir. Leiste el Facundo de Sarmiento? Claro, civilizacero y barbarie. Bienvenido a la barbarie. Estoy apta de tener dos cosas. Adapta a lo que se puede. Que queres saber? La amiga de mamá que vino hoy, Sonia. No es la novia papà, no te diste cuenta. No, no quiero nada con ese titulo. Pero, ¿quién es? Un perro Olmos. Un narco. Encontraron droga en el barrio de los varones. Hay que revisarle a todos los chicos. Vamos. Vamos. No robamos nada. No tiene nada, no vamos nada. ¿Quién lo manda meter las balas con la escuela? Mejor no se meta, profe. Dejale saber que estás con ellos, que te importan. Y no que te importan solamente ellos, sino también su entorno, su familia. ¿La pondría a hacer tu hija que vuelva al colegio? Y justo ahora la estamos obligando a hacer la ingresa para una escuela que no quiere. No es muy injusto, ahora tiene 11 años. No, porque las zapatillas... ¡Basta, Sol! ¡Basta! Se encontró mucha cantidad. Es evidente que está plantada. Hola, ¿te comentas? No podemos meter la gendarmería acá. Nuestra autoridad es ética. ¿Y vos qué crees que a mí me gusta estar acá, en el colegio, con los chicos que están metiendo droga? Pero igual vengo todos los días. ¿Y sabes por qué lo hago? Con una única persona. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Yo creo que vale la pena. No te estamos accusando de nada. ¡Vogliamo solo sapere che cosa è successo in quella piscina! ¡Biggi! ¡Ey, Biggi! ¡Sorrigui! ¡Ayuda! ¿Hai sentito o visto qualcosa di strano? ¡Porza, corri! ¡Sí! ¡Biggi! ¡Aaah! ¡Biggi! 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 Che è successo? Non lo so. Dimmi cos'è successo, Sara. Dimmi cosa hai fatto. Sara! Claudia! Sara, sai qualcosa? Che cosa l'hai fatto? Che cosa l'hai fatto? Lasciamelo! Quella ragazza sta mentendo. Non ho mai capito! Sì, che ti capisco! Che cosa guardi, pagliaccio?